E lui disse, se Dio sarà con me e mi custodirà il viaggio che sto facendo e mi darà un pari da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò in pace alla casa di mio padre, allora il Signore sarà il mio Dio. Diciamo che il problema della prosa biblica in certi momenti è l'estrema concessione, come il grande cinema, non ci sono fronte, e quando venne Rache, primo piano, Rache, e già sei dentro, non puoi più uscire, capisci subito, vedi? Anche un po' di buce, lo vedi, no, Rache. Egli stava ancora parlando con loro quando venne Rache, con gli egregi di suo padre. Questo è un dettaglio interessante, c'è il primo piano di Rache, e io devo dire, se vede, ta, il primo piano di Rache, bella attrice che fa, no? Se vede invece un piano largo, e dico, ritrovo già aperto un po' della poesia, ma comunque è un film, una storizia. Germano Olvide. ...e entrano dalle finestre come ladri, trema la terra, si scuocano i cieli, sole e l'una si oscurano, e le stelle ritirano il proprio splendore. Ad alcuni può sembrare gracchiante, ma è meravigliosa, meravigliosa. ...e come c'è questo? Canta, canta forte, canta, canta. Canta forte, più forte, 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 canta forte, forte, così forte, che è un gatto selvatico, che se ne andava per i cazzi fuori, guardi, c'è un gatto solidario, un gatto selvatico amareggiato, e solo una amareggiata. ...perché il gatto selvatico è amareggiato. Ma è tovo appena detto. ...perla pubblica. ...da 400 kg, ...che i pastori aspettavano di essere almeno 55 persone. Giacobbe, preso dalla drega niente, per fare il brillante con la cugina, prende la pietra, la sposa, anzi neanche, la rotta, fatemi il tuo. ... ... ... ... ... ... ... ...